Bella ragazzi, benvenuti all'episodio 4 di Rotto Porta la Nonna Questa serie, come ho già detto negli altri episodi precedenti, consiste nel Tentare di non bestemmiare, principalmente, sì, ok Tentare di non bestemmiare, facendo una partita in live con lo Snipatz Quindi, col cecchino, andando di fare una buona partita L'unica partita buona che mi è venuta è il primo episodio, che ho fatto 46 O le altre stanno, diciamo, calando, più nel buio di COD Vediamo la mappa top secret, cos'è? Uh, raid, come il vecchio episodio E se non erro, ho failato delle 8, ok ragazzi? Questa è la mia prima partita della giornata, mi sono svegliato alle 5 del pomeriggio Quindi non sono molto lucido, vabbè, vabbè, vabbè Speriamo bene Ora mi posiziono con la poltrona in modo ottimale Bene, bene La Lamborghini parcheggiata lì, io non so come abbia fatto Direi di provare con Il ballista Ok Allo spawn non ho fatto la 8 La cosa va bene, però Qua dentro c'è qualcuno che sta appuntinando tutti Per una parola Pitmarcord Io veramente non so più giocare Ovvio che t'arriba di qua Cos'è sto fucile? Cos'è? Cos'è più lento di Gesù a mirare questo fucile? Guarda Guarda È fortissimo Ah che bello l'Ipsilon, l'Ipsilon con la secondaria È epico Che tira sul fucile Vedere di posizionarci qua Oh cazzo Atomize UK Ma come si fa a chiamarsi Atomize UK Non entrare nella spawn Testa di minchia E che cazzo? E che cazzo E levati Madonna Ovviamente Cos'è sta roba? Cos'è? Addio Comunque ragazzi Se volete far clip Andate su COD4 Perché è Black Ops 2 Veramente A meno che voi non siete su PS3 Non si può giocare Super Che cazzo è sta cosa? Perché mi arriva le scariche di elettricità in faccia? Dio santo Cazzo Cazzo c'ho uno dietro di me Speriamo che mi veda C'ho uno anche qua No Questa pistoletta by the way è fortissima 8-4 Minchia Super punteggio Ok Minchia Swag è l'ultima uccisione con l'uccellino Minchia Ok, basta Ok Demolition Neutralizzate GioP Neutralizzate GioP Hitmarcord Non più Hitmarcord Non c'è di nessuno Ovviamente quando vi vado a fare di spot Non c'è un cazzo di nessuno No No Cazzo lo fa dai qualcuno disinneschi ma ci sono andato solo io e ovviamente nessuno si preoccupa della bomba siamo in demolizione esplode testa di cazzo ah no stiamo attaccando ok mi sto un attimo oddio mio meglio mettere la m che cazzo è questo al dsr andiamo non si trova un cazzone nessuno tiriamo un bell'uccellino aiuto perché questo è handicappato totalmente questo qua era handicappato totalmente non mi fotti dai basta con ste cose madonna finita pezzi di merda è stato un grande episodio ragazzi 11-7 gran partita però non sono una bestemmia meno male sarà che mi sono appena svegliato però vabbè ottima finale minchia meglio di un triccio sicuro vabbè ragazzi questa partita è due volte di meno mi spiace vabbè ci vediamo al prossimo episodio il prossimo episodio sarà il tutorial di fifa 13 scusate se sono stato un po' inattivo però diciamo che non avevo tanta voglia di fare video non so perché però vabbè ci vediamo al prossimo video raga bella iscriviti al nostro canale grazie a tutti